Sarà inaugurata domenica pomeriggio a partire dalle 14.30 alla presenza del Vescovo Zenti, la nuova sede della Pastorale Adolescenti e Giovani della Diocesi di Verona. Si chiamerà Casa San Giovanni Paolo II a ricordare quel grande santo che tanto fece per i giovani e sarà presso l'ufficio del Centro Unitario Missionario a San Massimo. Il direttore della Pastorale, Don Giampaolo Melchiori, nella diretta televisiva su Telepace ha illustrato le stanze della nuova sede che ospiteranno uffici e sale incontro. Di fronte a quella splendida cappella della trasfigurazione di cui stiamo guardando le immagini c'è un duplice corridoio, quella è proprio la parte pastorale del centro e lì questa parte è costituita come stiamo dalle immagini che vediamo da tre ampli saloni sul lato destro che appunto possiamo vedere, tre saloni ampli per i luoghi di incontro, sono luoghi di incontro per le realtà, delle stanze capaci di portare 30-40 persone, l'una tranquillamente. Di fronte a queste stanze per gli incontri dei giovani, quattro stanze grandi, ci sono sei studi, studi che servono per la comunità, per ciascuno della comunità, gli spazi per l'accoglienza, gli spazi per la preparazione delle attività e poi c'è un altro corridoio che ospita anzitutto la segreteria che non è soltanto un luogo di preparazione tecnica, è il primo luogo, il primo volto, è il volto accogliente del centro di pastorale adolescenti e giovani. La cucina e soprattutto la cappella vanno a completare gli spazi a disposizione, confluiranno qui nei prossimi anni migliaia di giovani e da qui partirà l'organizzazione per numerose iniziative come le preghiere serali e le evangelizzazioni di strada, campi SAF e viaggi per le GMG e corsi più approfonditi sulle sacre scritture come le dieci parole e la scuola della parola. Sono tutte proposte rivolte a quei giovani che manifestano forte il desiderio anche di approfondire la conoscenza e lo studio della parola di Dio quindi che manifestano una fame anche di una relazione autentica, di una relazione con questo padre che salva, con questo padre che abbraccia e salva la vita. Per tutte le informazioni necessarie sulle iniziative la casa sarà a disposizione oltre al sito internet www.giovaniverona.it e nei profili dei social network del centro.